Quello sulla lingua italiana è un dibattito ancora aperto. Io sono convinto che una lingua, per essere realmente compresa e appresa, non può essere soltanto letta, deve essere ascoltata e parlata. Com'è che gli italiani hanno imparato a parlare l'italiano? Di sicuro non leggendo. Non siamo mai stati un popolo di grandi lettori, ma più che per abitudine, per il fatto che abbiamo sconfitto abbastanza recentemente l'analfabetismo. Quindi gli italiani hanno imparato la loro lingua ascoltando l'opera, ascoltando la radio, guardando e ascoltando la televisione, non la televisione di adesso ovviamente, andando a teatro, andando al cinema. E in quest'ultimo caso va detto che il doppiaggio per un periodo ha svolto un ruolo importantissimo. Ecco, tutte queste cose secondo me hanno fatto molto più e molto meglio di tanti noiosissimi studiosi di italianistica. E poi ricordiamoci questo, il primo ad aver affrontato il problema della lingua italiana da un punto di vista pratico, perché il problema va affrontato da un punto di vista pratico, se no è inutile. Il primo è stato Carlo Goldoni, non un accademico e neanche uno studioso, un commediografo.